Benvenuti in questa lezione di biochimica. Con questa lezione iniziamo il metabolismo del glicogeno. Allora, il glicogeno io spero per voi che sappiate che cosa sia dal momento in cui viene approfondito fin dalle scuole superiori. E' ovviamente un polisaccaride di riserva e viene sintetizzato a livello della cellula quando le molecole di glucosio sono in eccesso e quindi vanno conservate. Come fa la cellula a conservare queste molecole di glucosio in eccesso? Andando a sintetizzare un polimero. Nello specifico sapete che si tratta di un polisaccaride formato da tante unità monosaccaridiche rappresentate da glucosio. Quindi più molecole di glucosio legate assieme da specifici legami che dovreste anche conoscere. Comunque adesso io riprendo un attimino la struttura e linee generali del glicogeno. Per farvi... perché poi dovete comprendere quelle che sono le vie metaboliche del glicogeno. Quindi parleremo della degradazione del glicogeno, quindi la glicogeno lisi. E poi parleremo della sintesi del glicogeno, la glicogeno sintesi. Quindi se il glicogeno, come tutti sapete, è il polisaccaride di riserva della cellula, allora la glicogeno lisi, ovvero l'ascissione di singole molecole una per volta di glucosio a partire dalla macromolecola glicogeno, avviene quando? Quando la cellula ha bisogno di glucosio, ovviamente. Di glucosio naturalmente per... Quindi è una via metabolica che dal glicogeno produce molecole di glucosio 6-fosfato, poi vedremo che in realtà vengono prodotte molecole di glucosio 1-fosfato, che poi verrà convertito a glucosio 6-fosfato, perché è questa la cellula può utilizzare il glucosio 6-fosfato, quindi il glucosio 1-fosfato, che viene... Le molecole di glucosio che vengono via via scisse dalla macromolecola di glicogeno, vengono scisse sotto forma di glucosio 1-fosfato, ma la cellula poi... Allora, dopo aver visto un po' una panoramica per il momento generale, generica degli enzimi che sono coinvolti nella degradazione del glicogeno, adesso cerchiamo di comprendere un attimino il meccanismo generale, poi i meccanismi di reazione di questi enzimi. Allora, dividiamo un attimino la degradazione del glicogeno in fasi, partiamo dalla fase 1. Allora, vediamo l'ultimo meccanismo di reazione dell'enzima fosfo-glucomutasi, quindi sapete che è stato ormai prodotto glucosio 1-fosfato, mano a mano che avviene la degradazione del glicogeno viene liberato glucosio 1-fosfato, e il glicogeno 1-fosfato, come vi ho già detto, deve essere convertito in glucosio 6-fosfato che può essere utilizzato dalla cellula. Questo viene fatto ad opera dell'enzima fosfo-glucomutasi che catalizza questa reazione, l'enzima nel sito catalitico ha un residuo di serina che è fosforilato, e il glicogeno 1-fosfato, come vi ho detto, deve essere convertito in glucosio 1-fosfato,